Cari amici, buonasera. Sergio adesso nel ritessere tutta la storia, cioè tutta, comunque tutti i punti salienti della storia dei sacchetti, non ha indicato volutamente uno dei punti che sono invece al centro della sua ricerca, e cioè quella della esatta, come posso dire, cronologia del rapporto tra Pietro da Fortuna e i sacchetti, la famiglia Sacchetti. In sintesi, chi ha seguito un po' questi studi sa che la questione ruota intorno a questo, e cioè si pensava fino a un po' di tempo fa che sostanzialmente il rapporto tra Sacchetti e Pietro da Cortona riguardasse la prima fase di Pietro da Cortona stesso. Cioè sostanzialmente Pietro da Cortona, adesso vero o non vero che sia quell'aneddoto, che naturalmente tutti pensiamo che non sia vero, però è emblematico, no? Il fatto di... viene vista quella copia, peraltro bellissima, che Pietro da Cortona ha fatto della Galatea di Raffaello, e quindi viene chiamato come pittore, diciamo così, della famiglia, e attraverso le opere che compie, opere storiche, freschi, ritratti, cresce vertiginosamente la sua fama, dopodiché la carriera di Pietro da Cortona si sviluppa in connessione con altre grandissime famiglie, in particolare Mattei e Barberini, per i quali lavora più o meno contestualmente, perché la galleria di Palazzo Antici Mattei, tuttora esistente, tuttora visibile, rimonta più o meno al 633, in base ai documenti, in quel momento Pietro da Cortona è già ingaggiato dai Barberini, forse non lavora ancora al voltone di Palazzo Barberini, però insomma comunque che poi finirà molto tardi, però non c'è dubbio che gli anni 30 del 600 rappresentano la svolta cruciale di Pietro da Cortona. Poi successive ricerche già ampiamente pubblicate e divulgate hanno convinto gli studiosi del contrario, cioè che non è affatto vero che c'è questa scansione per cui Cortona Barberini esordisce, più o meno esordisce, con i sacchetti che lo portano in palma di mano, è il loro pittore di camera, per così dire, e poi passa a altre fasi. In realtà è stato ampiamente dimostrato che le opere che Pietro da Cortona fa per i sacchetti che sono confluite nella Pitacoteca Capitolina non possono assolutamente essere datate tutte nel lasso di tempo giovanile, ad esempio la immensa battaglia di Alessandro fatta per Alessandro Sacchetti e non è certo del periodo giovanile ed è una commissione Sacchetti di primissimo piano. Però è certamente vero un dato storiografico che è interessante per la ricostruzione della carriera di Pietro da Cortona e cioè che noi abbiamo la testimonianza di Giulio Mancini che è una testimonianza in media seressa in cui sostanzialmente Giulio Mancini inserisce nelle sue biografie, nelle vite degli artisti, nel settore dei viventi, inserisce una biografia di Pietro da Cortona quando Pietro da Cortona in realtà è veramente poco più che un esordiente trattandolo con quella dignità e con quella rilevanza con cui tratta, che ne so, il Caravaggio o gli altri grandi del suo tempo. Anzi, la biografia di Pietro da Cortona che teoricamente potrebbe essere breve perché è la biografia di un ragazzo, insomma, è in realtà ampia e complessa e dice delle cose molto belle che dicono tanto su quello che può essere il più corretto giudizio per la comprensione del peso enorme che Pietro da Cortona vi era a avere nella Roma degli anni venti e naturalmente del suo rapporto con Isacchietti. Mi ero trascritto un passo famosissimo però naturalmente non si può pretendere che sia presentissimo alla mente di ognuno di noi dalla biografia di Giulio Mancini che è molto interessante se viene letta in relazione a quello che abbiamo visto per esempio alle spiegazioni che ha dato Carlo a Benocci adesso su Castelfusano e sugli argomenti cioè, intendo dire questo in questa specie di grande gara della committenza del mecenatismo che si scatena a Roma tra gli anni dieci e venti e trenta poi naturalmente del seicento non c'è dubbio che Isacchietti hanno una grandissima rilevanza e non c'è dubbio che ogni mecenate ogni committente ogni famiglia nobile amante delle arti e della cultura cerca di dare effettivamente un suo segno specifico attraverso un'operazione di scelta di selezione degli artisti che riflettano in qualche modo gli orientamenti fondamentali della famiglia dal punto di vista storico etico, economico, sociale, politico e così via certo per alcune scusate per alcune delle famiglie nobili romane o operose a Roma questo fatto del collezionismo ideologicamente orientato potremmo dire è un fatto dichiarato è argomentato e spiegato esempio degli esempi Vincenzo Giustiniani non c'è dubbio che la collezione Giustiniani è una collezione ideologica cioè una collezione in cui la scelta delle opere è in qualche modo un'antologia del pensiero del committente un riferimento alla realtà politica e economica del proprio tempo un messaggio che attraverso le immagini viene veicolato da parte di un grande conoscitore perché poi tra l'altro c'è da aprire ci sarebbe da aprire la parentesi delle parentesi sulla storia del collezionismo che sì non sempre poi viene cioè in che misura i collezionisti davvero se ne intendevano perché non è come una mica tutti erano come Vincenzo Giustiniani che la pittura la capiva non è escluso che alcuni collezionisti in realtà non capissero niente di pittura ma raccogliessero le opere e per emulazione e per obbligo sociale e per determinati fini che non necessariamente sono quelli della comprensione intrinseca della pittura o per meglio dell'arte o per meglio dire dei contenuti che in effetti è lecito rintracciare proprio ieri a questo proposito con Sergio Guarino abbiamo fatto una una discussione molto interessante cioè commentando un libro che in qualche modo ha una relazione con quello che stiamo dicendo commentando un libro che si chiama I pittori del dissenso che è un bel libro che è stato edito da alcuni studiosi dell'Istituto Storico Ostriaco a Roma è un libro che rievoca diciamo le tesi storiografiche di Luigi Salerno pubblicate quasi 50 anni fa a proposito della cosiddetta arte del dissenso nel 600 c'è quegli artisti come Testa Mola Castiglione Caroselli Tassi eccetera eccetera che secondo Salerno sono stati ai margini hanno costituito rispetto all'arte ufficiale di un Cortona Sacchi eccetera Bernini Borromini anche Borromini in fondo avrebbero costituito un filone alternativo di dissenso rispetto ai grandi valori dell'ufficialità si è discusso di questo fatto più o meno condivisibile naturalmente infatti c'è chi lo condivide c'è chi non lo condivide affatto non di meno mi pare che si concordasse sul fatto che nella generazione di Pietro da Cortona e anche in forte riferimento a Pietro da Cortona stesso perché uno uno dei dei pittori cosiddetti del dissenso è Pietro Testa detto il Lucchesino che fu un competitor micidiale di Pietro da Cortona da lui da Cortona stesso cacciato dalla scuola umiliato mortificato forse non spinto al suicidio fatto stare che Pietro Testa si suicidò ebbene è molto interessante mettere in luce quale fosse effettivamente la strategia estetica chiamiamola così di un personaggio come Pietro da Cortona rispetto a un committente come Sacchetti rispetto ad altre strategie estetiche messe in campo in quel momento da altri grandi collezionisti e committenti tutto questo per dire una cosa sola certo non esisteva una sola strategia anzi c'erano come c'è adesso e questa era la cosa che ci colpiva anche con Sergio parlando c'era all'epoca si muove all'epoca la stessa tipologia di dibattito che noi siamo convinti essere tipico dei nostri tempi cioè quello tra tra coloro che dicono l'arte è solo quella che viene fatta da una certa ala da un certo gruppo di artisti mentre non è quella che fanno altri pensando invece di farla cioè il quesito come oggi succede di dire quelli che dicono ma io non posso ammettere nemmeno l'esistenza di Piero Manzoni Damien Erst Jeff Gunz eccetera non perché non mi piace non perché non lo capisco ma perché non è arte all'arte è un'altra cosa posso anche ammettere che Piero Manzoni o Duchamp ai suoi tempi abbiano fatto delle cose dei manufatti o al limite anzi non l'hanno nemmeno fatti hanno preso una cosa l'hanno guardata e ci hanno messo un titolo ma questa non è arte mentre altri dicono no l'arte è esattamente questa non è quella del pittore che oggi dipinge come Pietro della Cortona quello è un pittore certamente ma non è un artista e questa discussione cosa sia l'arte dunque veramente che appunto noi riteniamo tipica dei nostri tempi che noi abbiamo visto le avanguardie in realtà nasce e si scatena proprio in quel momento in quella fase storica e non c'è dubbio che le individuazioni per esempio dei sacchetti verso Pietro della Cortona in questo senso hanno un senso profondo i sacchetti poi erano effettivamente questa questa dimensione che ha messo in luce proprio il rapporto a Pietro della Cortona questa cosa che ha ricordato adesso che ha ricordato così bene Sergio Guerino non è di poco conto nella storia del mecenatismo del collezionismo e quindi degli orientamenti estetici conseguenti cioè i sacchetti erano ricchissimi se si pensa che l'ala rappresentata da Pietro Testa detto il Lucchesino da Mola e altri mette molto in evidenza il fatto che questi artisti che si consideravano gli unici e veri artisti appunto in contrapposizione a un Pietro da Cortona visto come un servo del potere per usare un linguaggio sessantottesco che si dipinge tanto bene ma in realtà non è un artista perché è soltanto un servo che attraverso le sue immagini esalta e glorifica e glorifica i potenti cosa che per esempio però per i sacchetti egli non ha fatto per niente mentre lo fa per Barberini e per Panfili perché per carità sono opere somme certo oggi noi non abbiamo questa dimensione però non c'è dubbio che il volto del palazzo per Barberini e la galleria Panfili sono opere encomiastiche certo oggi ce ne rendiamo meno conto ma all'epoca in un modo veramente imbarazzante quello che un Pietro Testa mai avrebbe fatto il fatto dunque che i sacchetti fossero così ricchi non è certo argomento di scarsa rilevanza nella individuazione di un Pietro da Cortona il quale tra l'altro ci viene presentato da Mancini proprio come la storia del giovane povero Pietro Testa ci diventa povero perché è marginato cacciato e umiliato e perché è difficile perché è altero e perché è diciamo un carattere insopportabile e certamente non è un uomo che vuole rendere omaggio ai potenti però nello stesso tempo quando si rapporta ai potenti si comporta anche in modo stravagante una specie di questi cosiddetto dissenso tipo i 5 stelle adesso che magari dicono tante cose giuste però non appaiono sempre simpatici Pietro da Cortona invece è simpaticissimo è una persona amabilissima è un uomo squisito che sa vivere e sa diciamo tradurre nello stile nel modo di presentarsi e di presentare le opere sa tradurre questa dimensione di una ricchezza conquistata conduce le sue opere ecco ecco Mancini che parla di un ragazzo di 20 anni che però però è portato al palma di mano dai sacchetti quello si cioè quando Mancini scrive queste parole non sappiamo bene in che anno c'è tutta una discussione sul manoscritto di Mancini che io sappio non si è mai risolta ma insomma Mancini ha scritto nella prima metà degli anni 20 del 600 ecco questo è certo poi 23 24 non si sa conduce le sue opere con una grandissima freschezza e tenerezza interponendovi bellissimi paesaggi bellissime prospettive e molti frammenti dell'antico con grandissima leggiadria e diletto dei riguardanti i superlativi si spregano è tutto bellissimo tutto grandissimo disegna molto bene di penna dura fatica in vedere dal vero questo è molto interessante perché non c'è dubbio che c'era all'epoca e c'è anche adesso una come possiamo dire una un automatismo di avvicinamento tra diciamo così la povertà povertà intesa però in senso stoico cioè come una scelta di vita che non vuole sottomettersi al potere autoritativo naturalmente della ricchezza e il vero il caravaggio che fa il vero passa alla storia non come una persona ricca magari lo era guadagnava tanto tuttavia non c'è nel caravaggio raccontano le le gli aneddoti delle fonti non c'è nel caravaggio alcuna sottomissione al benessere dato dalla ricchezza ad esempio il caravaggio non si compra vestiti non compra casa non possiede niente quando si fa l'inventario del suo studio non c'è niente c'è un un liuto mezzo sfondato dei quattro canterani eccetera eccetera eppure era pagato molto bene però caravaggio è il pittore del vero e come tale è comunque in una dimensione di stoica e severa povertà in realtà guarda caso Mancini che è un critico molto attento e ideologicamente orientato perché basta leggere le vite del Mancini per capire che effettivamente le sue biografie sono hanno un sono come dire costruite con un sottofondo costante di critica d'arte di tipo ideologico e sociologico diciamo la verità ebbene Mancini mette in evidenza tutte quelle doti che sono le più tollerabili in chi comunque detiene un potere economico tale da poter schiacciare chiunque altro freschezza tenerezza bellezza la categoria stessa della bellezza le opere le opere di Pietro da Cortona sono definite bellissime e ma può sembrare una sottigliezza ma il grande elogio che è rivolto da questi scrittori del seicento perlomeno dai più consapevoli prima naturalmente che arrivi la seconda fase della critica d'arte seicentesca che è quella non più ideologica ma letteraria filosofica quella diciamo incarnata dal Bellori ma questo arriva nella seconda metà del seicento qui stiamo parlando di un tempo eroico la prima metà che Pietro da Cortona indubbiamente incarna in modo sublime e tutti gli elementi la freschezza la tenerezza la presenza del paesaggio dell'antico è vero la leggiadria il diletto sono tutti quegli elementi che danno piena giustificazione di un artista che in qualche modo è sintonizzato sul non asservimento ma certamente celebrazione e traduzione in linguaggio figurativo di una dimensione della ricchezza e del benessere e del vivere che non può essere conferito se non dalla ricchezza medesima tuttavia dura fatica in vedere dal vero questa questa postulazione di Mancini che è scritta proprio in relazione alla committenza Sacchetti è interessante dura fatica a vedere dal vero che vuol dire in buona sostanza che in verità Pietro da Cortona esordisce preservando quella grande tradizione del vero che nel primo ventennio del del seicento si era radicato a Roma in modo poderoso e non certo soltanto attraverso l'opera del Caravaggio ben inteso però quando poi alla fin fine Pietro da Cortona realizza la prima grande impresa che sia nota conosciuta e apprezzata dal Mancini e cioè la frescatura di Santa Bibiana è vero Mancini dice che questa è l'opera veramente ispirata determinata dal 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 buon gusto dal buon gusto ha un senso tutto questo rispetto a quelle opere che sono effettivamente la quintessenza del buon gusto anzi sono il pilastro stesso di quello che poi sarà chiamato il buon gusto quando arriva alla scuola francese e cioè le opere fatte per i sacchetti per l'appunto che Sergio ci ha mostrato in rapida carrellata dicendo così garbatamente che non ne parlava perché ne avrei parlato io ma insomma in realtà il punto non è tanto questo ma a quelle opere c'è le berribe il sacrificio di Polissena la battaglia di Alessandro il ratto delle sabine è quell'opera così interessante è già questa un poco controversa un poco controversa nella data perché a quest'opera sono state collegate delle delle una serie di testimonianze che non permettono di stabilire esattamente quando precisamente fu fatta se fu fatta per un matrimonio cosa comunque abbastanza strana un ratto delle sabine per un matrimonio non è ma c'è chi ha sostenuto però con dignità questa tesi cioè sarebbe il matrimonio di Giovanni Francesco Sacchetti è vero con la Beatrice Tassoni questo matrimonio è del 1631 quindi è un pochino ma sarà non sarà insomma il ratto delle sabine è certamente l'opera cruciale di Pietro da Cortona nella sua giovinezza e poi non so di Pietro da Cortona di tutta l'arte di quel tempo trattandosi di un capolavoro supremo ne parla ne parlerebbe Luca Berrettini in una famosa lettera scritta a Ciro Ferri nel 679 è un quadro che è appartenuto a Fabrizio Valguarnera quel grande quel grande antiquario trafficante è stata eseguita forse per il re di Spagna addirittura per Filippo IV c'è una una testimonianza del Sandrart da un punto di vista filologico è una cosa di una complessità enorme che non si riesce a sciogliere però che sia un quadro regale che sia la quintessenza di una ideologia figurativa insomma che afferma se stessa nel rapporto che è Pietro da Cortona per i sacchetti questo si certamente istituisce con Giulio Romano e quindi la tradizione raffaellesca e quindi la ricostruzione dell'antico secondo il raffaellismo però ecco un tema storiografico gigantesco che è trattato molto ma si potrebbe ancora trattare cioè questo è lecito dirlo è lecito indicare questo rapporto privilegiato privilegiatissimo di Pietro da Cortona con Giulio Romano perché ne parla lui stesso nel trattato che firma con Ottonelli il trattato sulla pittura uno dei pochi passi probabilmente scritti veramente da Cortona e non dal Gesù di Antonelli parla proprio di questo cioè di Giulio Romano di come Giulio Romano riesamina l'antico attraverso il repertorio che può leggere soprattutto sulle colonne coclidi e quindi la problematica delle armature e quindi dell'esercizio delle armi della battaglia del combattimento vero nella diciamo nella iconografia seicentesca rispetto al barocco ma poi è vero possiamo davvero pensare che le sabine venissero rapite a quella maniera lì ma tutto quello che possiamo pensare è che è da escludere in modo perentorio cioè che in effetti la dimensione fantastica di Pietro da Cortona che reinventa ed è questa la sua massima gloria già già quando è con i sacchetti e poi quando è autonomo del tutto reinventa l'idea della scuola raffaellesca perché questo è stato poi la 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 sua casa scuola sapete che adesso è molto ben documentata e noi sappiamo bene come lavorasse come lavorava lavorava non lo ha mai detto ma praticamente come Raffaello non è più nemmeno cioè per riprodurre il metodo di lavoro e allora il fatto che Pietro da Cortona rappresenti i sacchetti Marcello e Giulio con una figuratività che va diretta a collegarsi con la ritrattistica raffaellesca cari amici perché questo è il punto poi abbastanza abbastanza facile da comprendere se si fa un'analisi stilistica la dice lunga sul rapporto che viene istituito con questi committenti toscani i sacchetti in effetti non si erano mai occupati molto di arte fino a quel momento però fino a un certo punto perché per esempio quando non erano ancora a Roma avevano avuto probabilmente invece un certo ruolo nella nella grande committenza che fa risorgere le arti a Roma dopo il sacco di Roma ad esempio andrebbe riesaminato il probabile ruolo dei sacchetti come mecenati in quello che è stato il più grande cantiere post-raffaellesco della Roma cinquecentesca che è l'oratorio di San Giovanni De Collato l'oratorio di San Giovanni De Collato gestito dai fiorentini e quindi profondissimamente legato all'ingerenza toscana a Roma e quasi quasi un ponte un ponte tra questo oratorio e Pietro da Cortona potrebbe essere tracciato tra i committenti anzi tra i mecenati che sono raffigurati nei ritratti bellissimi che si possono vedere ancora adesso negli affreschi dell'oratorio San Giovanni De Collato un personaggio almeno molto probabilmente è un sacchetti ma questa diciamo è una storia un po' complessa e che non è stata non credo perlomeno non mi risulta che sia stata ancora ben dipanata ma dico questo solo per dire che nel momento in cui i sacchetti fanno una scelta di campo e favoriscono il neoraffaellismo portato da Pietro da Cortona si potrebbe eccepire ma quale Pietro da Cortona c'era già Guidoreni che infatti è venerato e adorato dai sacchetti e però questo è vero e non è vero perché il raffaellismo di Guidoreni è di un'altra tipologia di un altro tipo e soprattutto è diciamo proiettato in una dimensione ben diversa che è quella portata a Roma da Annibale Carracci però non va dimenticato che Pietro da Cortona impara molto da un seguace dei Carracci che dai Carracci proprio in quegli anni addirittura prende il nomignolo e cioè il suo conterraneo Pietro Paolo Obonzi cortonese come lui che veniva chiamato il Gobbo dei Carracci un piccolo mistero della storia dell'arte italiana perché è stato certamente il link questo pittore tra l'ambiente dei naturalisti caravaggeschi in cui si può includere anche Guidoreni in quegli anni e Pietro da Cortona giovane tanto è vero che i due pittori poi nel 33 lavorano insieme Bonzi e Cortona nella Galleria Mattei tuttavia questo episodio che dovrebbe essere cruciale in verità per la ricostruzione di Cortona è ancora avvolto in una fitta oscurità perché pochissimo sappiamo di questo personaggio cruciale e dei suoi rapporti con i sacchetti dico Pietro Paolo Bonzi ma questo era soltanto come dire un cenno per dire come c'è effettivamente un rapporto necessitante tra la formazione della personalità di Pietro da Cortona come principe sovrano della corrente neoraffaellesca che poi arriverà fino alla seconda metà del secolo e i sacchetti che di tale tendenza sono effettivamente quello sì i primi grandi mecenati i primi che comprendono quale innovazione potente questo giovane toscano sta portando a Roma grazie a Claudio Strinati per averci fatto ripercorrere alcune storie straordinarie veramente e aver sottolineato anche questa corrente raffaellesca da Pietro da Cortona a Guidoreni così importante per l'Accademia di San Luca chiedo adesso al professor Portoghese di prendere la parola